ciao raga buona domenica bentornati ok qua dentro invece è molto interessante è il torneo che attualmente è più interessante che abbiamo come torneo poiché siamo rimasti in 19 e il primo prende 900 late reg chiusa spero di non essermi secciato questo è un good luck eccolo la 7 jack 2 per la salvezza che non ci deludono neanche una volta nella nostra storia raga ancora gl lascia jack sudama e ora giustamente asso k nei buy in aggiungiamo 20 euro in più anche ora abbiamo fatto re buy dai bello vamos cazzo dai 19 left vinciamo il flippetto tecnico giustamente dopo asso jack asso dam asso k la più grade successivo è kk oh mio dio madonna questo è con la mano a 19 left raga è proprio quella mano la prego questo no e poi che sciove 26x yes va bene va bene va bene va bene va bene va bene vamos mmm jesus vamos chip leader 19 left con 56 bui nell'iper turbo da 33 euro dove noi ci abbiamo creduto abbiamo creduto nel quazao delle carte e ci siamo anche rientrati siamo usciti ho detto no sai cosa fuck you ci rientro good luck qua asso dam ma sembra una scemità una sciocchezza di piatto ma è molto importante anche questo qua ah bene ok picche va bene non fa niente abbiamo 36 bui comunque è un peccato però abbiamo comunque 36 bui perdiamo la nostra chip lead ma non fa niente bello freshness che con 8 bui avrò per 3 dam dam smi di dopo sciova ecco raga se mi scammano di nuovo mi intossico però oh fu 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 yes come on come on in tutto ciò bello oh in tutto ciò bellissimo siamo al final table cioè mentre ci vedevamo un po' di stack delle persone abbiamo vinto 100 euro splendido 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 perché siamo a premi 9 alla mano in demone adesso vi metto anche lo screen dell'itm se non avesse aperto lui ma avessi open shavato lui noi avremmo chiamato così dia lasciamo l'amico che ha aperto da la dovrebbe sicuramente avere un range migliore del nostro no in realtà non per forza però comunque dia lasciamo bah per fortuna mi sono fatti i cazzi di fini un bel di cilio no però va bene c'è il primo all in e call tra l'altro anche parecchi big blind cioè non erano i due più short quindi speriamo che lui avesse un pochino più di chips di lui e yes 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 ah questo era proprio il secondo in chips quindi vamos ottimo e mi lancia le cose a me perché che vuoi da me ho lasciato una coppa a me così ti ci dedichi 7 ore e sei rientrato all'investimento iniziale non mi dire ma veramente grande francisco play it out che non ho neanche visto come play it out e adesso l'ho visto asso 6 da 6 che run si servirebbe un po' di movimento in questo final table perché abbiamo sempre solo foldato dall'inizio del final table siamo partiti a 40 e passa a bui siamo a 20 ma non perché abbiamo perso qualcosa semplicemente è un cazzo di torneo iperturbo quindi ovviamente ogni mano ogni 3 minuti penso ogni 5 minuti aumentano il big blind qqq però attenzione ma se c'è la fold qua perché abbiamo lui dietro e poi abbiamo una dama alta alla fine di merda non arribe molto a scena ma sai che cosa sono andato un po' in difficoltà in sto spot ci può mettere infinita pressione lo andrò a foldare ma sono molto molto indecisa perché c'è lui con 6 lui con 3 lui con 5 lui con 13 e i nostri 21 bui qua hanno la loro importanza quindi continuare con una dama alta e un 4 quinti anche se doi smittare il nostro 4 quinti non saremo neanche nazi raga al final table ti prego in the cooler oh yes che bello questo hold vero sicuro della scammata imminente se radio vuoi dire seconda al chio da 5 complimenti si cresce col bankroll finalmente good luck per la sessione bravo 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 continua così e good luck questo foldiamo lo lasciamo ad Andrea l'inconveniente per 3 sto scritto su Instagram di recitazione un'occhiata si Jesse perdonami oh ci sono spendito bello così ma io ho qua sinceramente show raga perché tanto questo qua con lui che ha un buio deve chiamare molto stretto vamos 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 che sofferenza immane e ah no vamos allora oh dai portaci a sto 3 left un 3 di cuori un 7 di cuori boom vamos 423 garantiti ecco e adesso arriviamo nel momento clou del torneo adesso dobbiamo cacciare lo scojones perché ora giochiamo per il doppio tutto quello che abbiamo fatto ora lo possiamo raddoppiare semplicemente battendo loro due quindi questo è un momento molto importante del torneo dai speriamo di riuscircelo a portare a casa sarebbe veramente splendido sarebbe veramente un modo bello 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 all'inizio di questa domenica volessi open showare Giandro con 7-7 così dal nulla alle 22.01 no va bene comunque io però mi devo isolare non posso cercare cioè per 20x effettivi potrei anche cercare però siamo in 3 cioè mi andrò a isolare tante altre cose quindi va bene anche così allora sciovi kudici maledizione c'andro 55 colpo grosso un bel nozzo torneo marona marona qual è qua la prima ci isoliamo 2.6 si mettiamo 1.88 no difference l'incr e sta su un po' birbantello non mi fa impazzire blocca un pochino l'action andremo per forza diciamo è una carta che dovremmo anche a bluffare parecchio se dovessi uscire quindi andremo comunque a buttare grosso cioè grosso 3.50 del 70% penso sia la size adatta sciandro stava pensando perché vorrei usciva qua a vedere il birbante oh dio vamos che cosa niente k yes amico mio francesco che penso sia friend of stream perché mi lancia cose da inizio stream io non so come lanciare non me le fa lanciare perché non mi fai lanciare lanciabile dio merda non volevo volevo fare 3.5 che nerve va bene va bene oh vomito 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 proprio si fa anche un sacchi super lui eee va bene faccio prima lo tenga un Q7 un monocombo però che palle madonna santissima che run out vergognoso che è uscito madonna va bene abbiamo perso poco va bene ok good luck raken it's up yes vamos 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 bello 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 sto flippetto tecnico e ci mettiamo col piedino davanti si invertono i ruoli come on qui c'è chiama plop chiama primo tarn no che brutto spot oddio vabbè non posso mai faltarlo se è cooler è cooler yes 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 cominciamo ecco facciamo proprio un bel double up gg ha possibile friend of stream bello 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 facciamo un bel torneo facciamo un bel torneo per 900 euro dai bella soddisfazione cioè bella sensazione saluto ci vediamo martedì ci vediamo martedì ciao raga buonanotte a tutti